salve a tutti oggi andremo a vedere in breve naturalmente come si vanno a gestire i richiami per uso caccia iniziamo con un concetto fondamentale che è quello del foto periodo sappiamo benissimo che la luce influenza tutte le attività presenti sulla terra quindi per luce naturalmente la luce solare e possiamo distinguere due influenze importantissime i cicli circadiani cioè quelli giornalieri l'alternanza giorno notte e poi naturalmente i cicli stagionali cioè il variare delle quattro stagioni questo influenza tantissimo il comportamento degli animali e naturalmente questo ci interessa in quanto noi dobbiamo gestire i nostri richiami per farli essere pronti nel periodo di caccia quindi da fine settembre fino a fine gennaio naturalmente naturalmente il foto periodo è l'esposizione alla luce ed è uno dei fattori determinanti per far arrivare pronti i nostri richiami alla stagione venatoria e più avanti vedremo come si attua questa gestione naturalmente del foto periodo naturalmente cosa serve per modificare questo foto periodo perché in parole povere noi dobbiamo andare a modificare un foto periodo dobbiamo andare a ribaltare le stagioni dei nostri richiami così che si trovino diciamo nella fase degli amori quando andiamo a caccia quindi nell'autunno poi inverno che non sarebbe sicuramente una cosa naturale perché naturalmente gli amori si verificano con l'allungarsi delle ore di luce quindi primavera e poi inizio estate quindi praticamente come se i nostri animali vivessero nell'emisfero australe quindi a stagioni completamente ribaltatevi cosa serve per fare questa modificazione del foto periodo naturale naturalmente serve una stanza perché se gli animali sono esposti alla luce naturale è evidente che non li possiamo modificare seguirebbero le normali diciamo alternanze di ore luce e quindi avrebbero a stagione gli amori insieme a tutti gli altri e quindi non ci servirebbero come richiami poi servono delle lampade e poi servono il timer che quindi ci va a modificare le ore di luce facendole crescere o decrescere a seconda del periodo dove siamo naturalmente la stanza la stanza deve essere isolata dall'esterno quanto più possibile quindi non ci dovrebbe essere infiltrazione di luce e anche per quanto riguarda la temperatura dovrebbe essere coibentata la grandezza della stanza è ovvio che dipenda dal numero di animali che io voglio detenere quindi tanto maggiore il numero di animali tanto più grande dovrebbe essere la stanza diciamo per un cacciatore tra virgolette normale basta una stanza sui 6 metri quadrati ma anche meno insomma che è più che sufficiente per contenere molti richiami che sono quelli che poi vengono portati durante l'attività venatoria le temperature massime naturalmente non dovrebbero mai superare naturalmente i 26 27 gradi all'interno della stanza soprattutto per tasselli e cesene che naturalmente soffrono maggiormente delle alte temperature i meri naturalmente sono più abituati alle alte temperature e quindi hanno meno problemi però generalmente nella stanza si tengono diciamo i quattro richiami principali un dimerdi tordo bottaccio tordo salsella e cesena tutti insieme e quindi comunque dobbiamo creare un ambiente che sia confortevole per tutti quanti quindi in caso di temperature eccessive bisogna aumentare la coibentazione sarebbe bene non utilizzare l'aria condizionata perché non è favorevole ma si possono utilizzare dei refrigeratori o deumidificatori in caso di umidità troppo elevata poi bisogna stare molto attenti a quelle che sono le zanzare perché le punture di questi insetti possono portare anche alla morte dei soggetti quindi se abbiamo delle finestre o comunque altri sistemi diciamo di schermatura con l'esterno bisogna porvi delle zanzariere in modo tale che le zanzare non possono penetrare all'interno della stanza e andare diciamo così appungere quelli che sono gli animali e portare o a gravi danno addirittura come vi dicevo alla morte di questi animali nostri che insomma hanno un certo valore le lampade le lampade che utilizziamo naturalmente la lampada è caratterizzata quello che è lo spettro quindi abbiamo i vari colori famosi luce calde e luce fredde naturalmente per i nostri animali generalmente si vanno ad utilizzare luci fredde cioè più chiare possibili non quelle blu ma quelle bianche va bene quindi non quelle rosse o così via addirittura le luci rosse naturalmente poi sono quelle calde che quindi tenderebbero anche a riscaldare l'ambiente che assolutamente non ci interessano in questo caso la temperatura del colore che si esprime in gradi kelvin va bene va diciamo quelle di nostro interesse dai 5000 gradi kelvin in su molto spesso si utilizzano più lampade una lampada che viene tenuta accesa comunque tutto l'anno perché naturalmente si aumenta anche l'intensità luminosa aumentando il numero di lampade una lampada che viene utilizzata tutto l'anno può avere dai 5000 ai 5500 gradi kelvin che è quella con una luce tra virgolette un pochino più giallognola invece quando abbiamo l'aumento delle ore di luce dobbiamo andare su lampade quindi da aggiungere che abbiano un elevato numero di gradi kelvin e quindi generalmente si usano quella 6500 che sono le luci bianche va bene ovviamente per aumentare l'intensità e far capire diciamo all'animale che si sta andando verso una stagione diciamo degli amori molto spesso c'è anche chi utile poi dipende dalla grandezza della stanza si possono utilizzare anche tre lampade quindi una sempre tra i 5000 e 5500 gradi kelvin e le altre due a 6500 gradi kelvin più grande la stanza più illuminazione serve le lampade non devono essere vicinissime agli animali ma bene devono stare a un metro un metro e mezzo altrimenti naturalmente hanno anche dei problemi visivi perché è un'intensità molto elevata molto vicina come anche per noi naturalmente ci dà fastidio poi andiamo alla parte un pochino più complessa che è quella del timer sul mercato troviamo tantissimi prodotti troviamo i timer a cavalieri mobili che sono quelli più semplici che quindi vengono inseriti in una presa elettrica poi hanno diciamo una struttura circolare fatta orologio in cui naturalmente si applicano le prese e noi si regola spostando i cavalieri mobili quella che è l'ore delle luci del giorno naturalmente non sono molto precise perché ogni cavaliere corrisponde a 15 minuti quindi la regolazione minima che io posso fare è quella di 15 minuti e che non è sicuramente la più ideale sono sicuramente i più economici un po più precisi sono i timer digitali e quindi abbiamo una regolazione che può essere di un minuto quindi la scansione è quella di un minuto e non più di 15 quindi una precisione molto più elevata però anche qui dobbiamo fare una regolazione manuale naturalmente quelle un pochino più complesse ma che generalmente danno i migliori risultati sono i cosiddetti simulatori di luce ne troviamo tanti tipi in commercio di tante marche va bene e naturalmente queste sono programmabili quindi noi programmiamo quella che è una data programmiamo l'ora programmiamo generalmente le tabelle ci sono tabelle specifiche quindi tabella tordo bottaccio tabella tordo sassello tabella cesena oppure una tabella completamente personalizzabile se ho delle esigenze particolari e quindi lei segue autonomamente naturalmente controllando che tutto funzioni segue autonomamente quello che è il ciclo va bene ribaltato delle ore di luce quindi allungando e accorciando a seconda del periodo le ore di luce quindi fa tutto da sé sono molto più costose però sono molto più efficaci inoltre abbiamo la possibilità di mettere la diciamo formazione dell'alba e del tramonto e anche delle fasi lunari quindi gli animali si ritrovano in un ambiente che è molto simile al naturale comunque quando sono in natura naturalmente vedono quello che è l'alba e il tramonto e anche la luna che tutto influenza la sua attività naturalmente queste centraline più complesse hanno un problema qual è il problema? che se noi abbiamo un'unica stanza in cui mettiamo tutti i richiami è ovvio che non tutti i richiami hanno le stesse esigenze di luce in quanto la migrazione segue periodi un po' diversi quindi merli e tordo bottaccio devono essere pronti prima rispetto ai tordi sasselli e alle cesene se mettiamo tutti i richiami nella stessa stanza il consiglio è quello di utilizzare le tabelle tordo sassello e poi di andare naturalmente a coprire sasselli e cesene per un periodo di tempo ovviamente il primo di luglio si coprono per fargli arrivare meno luce perché altrimenti sarebbero pronti già all'inizio della stagione cioè a fine settembre inizio d'ottobre quando ancora non sono presenti come specie naturalmente voi naturalmente da cacciare perché non sono ancora arrivati almeno qui in Toscana e quindi queste sono le più complesse naturalmente bisogna stare molto attenti quando gestiamo i richiami a evitare visto che vi parlavo dell'alba alla gestione della doppia alba perché può succedere che l'alba che viene mandata dalla centralina avviene prima dell'alba naturale quindi quando io vado a prendere i richiami per poi recarmi a caccia trovo già la luce accesa, naturalmente li metto nel trasportino, li porto fuori che è ancora buio e quindi loro si ritrovano ad avere una seconda alba che è l'alba naturale e questo può danneggiare naturalmente quella che è la produzione canora dei nostri animali quindi meglio evitare la doppia alba quindi si possono fare varie regolazioni su queste centraline proprio per evitare questo fenomeno quando si inizia naturalmente a gestire i nostri richiami con il fotoperiodo naturalmente queste sono indicazioni proprio di massima naturalmente si inizia agosto-settembre per chi fino ad ora ha utilizzato la chiusa tradizionale che naturalmente non si può nemmeno più effettuare a norma di legge che non si possono tenere gli animali al buio per lunghi freddi tempo senza che questi parenti vedano mai la luce e invece si inizia a ottobre e gennaio negli uccelli che non sono mai stati chiusati quindi si mettono all'interno e poi loro seguono questi cicli comunque ribaltati perché lo stress diciamo che è una sola volta perché poi una volta che hanno superato il primo stress naturalmente rimangono sempre poi in un ciclo che è completamente ribaltato ma segue le normali diciamo fasi che seguirebbero anche in natura però ovviamente a stagioni ribaltate se abbiamo la disponibilità la cosa migliore sarebbe quella di avere ovviamente due stanze le due stanze devono essere gestite una stanza viene dedicata naturalmente ai merdi e ai torri di Bottacci e l'altra stanza ai torri di Sasselli e alle Cesene quindi lì abbiamo poi regolazioni centrali diverse naturalmente ci serve tutto in doppio ci servono appunto due stanze ci serve il doppio delle lampade e ci serve il doppio delle centraline quindi una situazione un po' più costosa ovviamente ma che sicuramente dà risultati migliori a livello venatorio ora io non direi più niente in questo video e nel prossimo affronteremo l'altro grande tema che è quello dell'alimentazione perché insieme naturalmente al fotoperiodo naturalmente abbiamo anche quella che è l'alimentazione che è fondamentale per far sì che ci sia un susseguirsi delle varie fasi e far sì che gli animali arrivano pronti al periodo venatorio nelle migliori naturalmente condizioni possibili grazie a tutti grazie a tutti